Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi parliamo di una sfida C'è stata lanciata una sfida Che dovevamo terminare una partita Quindi fare vittoria reale Killando l'ultimo player Dopo che aveva ballato Per un bel po' Ragazzi, quindi abbiamo fatto una partita Abbiamo cercato di Lasciare uno slot per le bombe ballerine Ne abbiamo prese tipo una decina Io purtroppo sono morto Alla fine, nell'ultima fase della partita Però il mio amico E compagno di team Marco È riuscito nell'impresa E ha fatto ballare l'ultimo player Ragazzi, penso almeno una decina di volte Vediamo il video perché Ragazzi, io sono morto Vai Marco Vai Marco È l'ultimo, è l'ultimo Mi senti? Vai, vai, vai Alta pure il bordo Bravo Sto ballando Sto ballando Sto ballando Sto ballando Vai, vai, vai Ne hai altri quattro Vai, vai, vai Vai, vai, vai È l'ultimo, è l'ultimo È l'ultimo Siamo arrivati solo Bravo, bravo Bravo, bravo Vendine altri di là Vai, vai, vai No Ando, vai, spero Non ucciderlo 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 alla fine Altri se vuoi Eccolo Non lo uccidere Ando Eccolo Balla un po' Balla un po' Balla di nuovo Altri due Altri due Oh, sto morendo L'altro Vai, vai Ucciderlo Assurdo Ragazzi Assurdo Bene Per oggi è tutto Ragazzi Vi ricordo Di iscrivervi al canale Di mettere like Di attivare la campanellina Sopertutto per le live Perché vi ricordo Che nelle live Noi a volte Regaliamo V-Bugs Quindi Ragazzi A voi non costa nulla Ma per me vale tanto Ci vediamo nei prossimi video Ciao bella ragazzi